Giacomo Rizzolatti, professore, un'eccellenza da premio Nobel, è un neuroscienziato, possiamo dirlo con orgoglio una volta tanto, che il mondo ci invidia, è docente di fisiologia umana, direttore del dipartimento di fisiologia umana all'Università di Parma, con i suoi collaboratori scopritore dei neuroni specchio e in estrema sintesi posso dire che sono i motori dell'empatia, cioè dell'etica, giusto? Dove la scienza si coniuga con la filosofia, che so essere una sua passione. No, è giusto quello che sta dicendo, cioè noi quando li abbiamo scoperti non pensavamo tutte le implicazioni successive. Noi abbiamo scoperto semplicemente dei neuroni nel cervello della scimmia, che erano un po' strani, perché si attivavano sia quando la scimmia guardava che quando faceva. Successivamente però, andando avanti, studiando soprattutto le emozioni, abbiamo visto che effettivamente sono i neuroni dell'empatia. Ma che cosa sono esattamente nel senso di come sono fatti, dove si trovano, cioè dicono che questa scoperta è paragonabile in biologia a quella della scoperta del DNA. Beh, quello è stato una cosa molto gentile fatta da uno scienziato americano che nel 2000 ha detto, questa è la scoperta… Non sono mai così gentili con noi gli americani? Lui è un indiano. No, è una persona molto in gamba, è un professore a San Diego. Comunque non c'entra quello. Non so se è così importante come il DNA, non credo. Comunque quando noi l'abbiamo scoperto nel 2000 non avremmo mai pensato che vent'anni dopo ancora sarebbe stata una delle ricerche più studiate. Ma le dicevo prima, perché sull'empatia è importante? Perché noi abbiamo scoperto che lo stesso neurone, la cui stimolazione dà dolore a lei, si attiva quando vedo dolore in un altro. Quindi non è che io capisco il dolore, ma lo esperisco, lo sento come mio. Questo è il punto centrale dei neuroni specchio di questi ultimi anni, quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Dove si trovano? In qualche area particolare? In moltissime parti. Noi all'inizio pensavamo che fossero nel sistema motorio, abbiamo parlato di sistema mirror o sistema specchio. Adesso sappiamo che è un meccanismo. C'è un'area che abbiamo studiato adesso che è l'area del ridere. Se tu stimoli quell'area il malato ride. Se gli fai vedere un film in cui uno ride gli stessi neuroni si attivano. Quindi capisci il ridere, lo senti perché è il tuo stesso centro che si attiva. E il gioco che si faceva da bambini? Guardarsi l'un l'altro e vedere che ride prima? Proprio così. Ma certi comici lo fanno. C'era quel comico francese che solo rideva, non so se ve lo ricordate. Non mi ricordo adesso il nome, ma compariva sulla scena, era uno di colore e cominciava a ridere e la sala rideva. I neuroni specchio sono innati o si acquisiscono con il tempo, con l'educazione? Entrambe le cose. Io sono convinto che il bambino appena nato ha già dei neuroni specchio perché il rapporto con la mamma è immediato. Il bambino capisce se la mamma sorride e quindi c'è un rapporto iniziale già molto forte. Però ci sono prove molto convincenti che aumentano. Ad esempio, sempre con i bambini, un bambino il quale non sa camminare, se gli fate vedere un altro bambino che cammina non ha un'attivazione dei neuroni specchio. Appena incomincia a camminare capisce. E questo vale per i ballerini. Ci sono degli esperimenti fatti in Inghilterra bellissimi. Un ballerino ha un'attività dei neuroni specchio quando vede ballare che è incomparabilmente più grande di una persona che non sa ballare. Quindi l'educazione? Bravissima. L'educazione è anche motoria. Se lei ha giocato a tennis, vedere Federer è un vero piacere. Se non aveva mai giocato, vabbè, dice, butta la palla di là. Quindi c'è un numero minimo che può crescere in particolari situazioni? Ecco, io non direi che tanto un numero minimo perché è questione di connessioni. Noi abbiamo un cervello molto plastico che ha una ricchezza di possibilità di aumentare le connessioni e più aumentano le connessioni, più si arricchisce la nostra capacità. È una patologia essere carenti di neuroni specchio? Eh sì. Noi pensiamo che ad esempio nell'autismo ci sia una carenza di neuroni specchio. L'autismo purtroppo è una malattia estremamente complessa di cui bisogna stare molto attenti prima di parlarne perché ci sono persone con l'autismo che sono altamente intelligenti, dei geni e ci sono bambini che sono un disastro, che hanno un quotiente di intelligenza bassissimo. Quindi capisce la cura, la comprensione di questo spettro è molto diversa. Però di base hanno una difficoltà di empatizzare con gli altri, senza dubbio. Però lei mi stava dicendo che questi neuroni possono essere allenati. Vede, ma l'allenamento più è precoce, meglio è. L'esempio migliore è quello del lingue straniere. Se un bambino impara l'inglese quando ha 3-4 anni, parla con l'accento inglese. Se lo impara come l'ho fatto io a 17, magari sa tutte le parole dell'inglese, legge bellissimo, ma parla con l'accento italiano, non parla con l'accento. La stessa cosa, c'è una finestra temporale. Lo stesso vale per le emozioni e per l'empatia. Più presto impari, meglio è. Si imparano le emozioni? Più che imparare, impari a capire le emozioni. Le emozioni sono innate, ovviamente, ma a capire negli altri sì. Ma è vero che i neuroni specchio si attivano anche con la fantasia, con l'immaginazione? Sì, senz'altro. Quello l'ha dimostrato un ricercatore francese, Jean Nero, quando uno immagina. Facevo prima l'esempio del tennis. Se uno si immagina di giocare a tennis, si attivano gli stessi neuroni di quando vedi uno giocare a tennis. Credo che lo sappiano degli allenatori, quando quello fa il salto in alto, che sta lì fermo e pensa, in realtà fa un rehearsal di come dovrà fare il salto, quindi attiva esattamente gli stessi neuroni. E questa attivazione ha dei tempi, delle durate, un'intensità, un crescente? Beh, il tempo del pensiero è molto rapido. Come state a studiarlo? Con che strumenti? Come studiate questi neuroni? Beh, noi li studiamo in varie maniere. Originariamente usavamo una tecnica che si chiama registrazione di singoli neuroni, che è la più precisa, perché i neuroni parlano con un certo linguaggio, emettono dei potenziali elettrici e noi studiavamo questi potenziali elettrici. Poi ci siamo chiesti ma il circuito com'è fatto? E allora abbiamo usato i metodi di brain imaging, prima la PET, poi la risonanza. Adesso lavoriamo molto con i neurochirurghi che mettono gli elettrodi nei malati che devono essere operati e quindi abbiamo una lettura diretta del cervello dell'uomo. Non bisogna essere oltre che scienziati anche un po' filosofi, professore? Beh, a me la filosofia è sempre piaciuta, fin negli anni del liceo. Anche adesso la collaborazione con Corrado Sinigaglia, che è professore, è servita molto. Ah, quindi lei lavora anche insieme a dei filosofi che fanno da coach? Brava, è proprio così. I filosofi fanno da coach, perché i filosofi sono quelli che sono più sottili, non ti permettono di dire una parola che non è precisa. Il filosofo è molto utile proprio come coach, ha ragione. Chi l'avrebbe mai detto? Che la separazione avvenuta dopo il rinascimento tra scienze umanistiche e scienza si sarebbe riunita proprio nella neurologia? Attualmente credo che deve riunirsi. Senta, quello che mi affascina sono le considerazioni etiche di questa evidenza scientifica. Cioè, c'è un meccanismo naturale alla base dell'empatia. Cioè, c'è qualcosa in noi che ci fa interessare al destino degli altri. Cioè, io sono in rapporto con un tu, se no non posso essere felice. Esagero? È verissimo. Io penso che molta dell'infelicità, ad esempio, dei ragazzi oggi è perché hanno molta difficoltà a creare dei rapporti duraturi. Telefonino. Quelli non sono rapporti duraturi, ma dei rapporti veri. C'è poca cosa che ti dà più soddisfazione che sapere che un altro ti stima e ti ama. Credo sia una delle cose che è maggiormente rinforzante il comportamento umano. Senta, ci sono anche delle considerazioni culturali e sociali importanti. Cioè, la nostra è una società individualistica. Che è qualcosa che possiamo dire non corrisponde alla nostra natura, quindi. Sì. Almeno il mio punto di vista, questo sarà un punto di vista forse molto personale, ma io credo che il 68 è stato un periodo molto brutto per la società occidentale, perché l'idea della prevalenza dell'io, dell'egoismo, dell'egocentrismo ha avuto delle conseguenze drammatiche che continuano fino ad ora. Adesso la situazione di lei sta molto migliorando, a parte i giochetti dei telefonini, ma l'idea che sia importante avere dei rapporti con gli altri è molto più. Vedo io quando faccio le conferenze, il racconto dell'empatia, c'è molto entusiasmo da parte delle persone. Lo accolgo con gioia. Forse è stato il concetto di libertà che è stato estremizzato. C'è la libertà dell'io al di sopra di ogni cosa, in fondo porta al narcisismo poi, al solipsismo. Alcune libertà propagandate in realtà ci rendono più soli, quindi non sono una vera libertà. Sì, in quel senso lì io sono d'accordo. Alcune delle libertà sembrano libertà, ma poi... Cioè, vede, a un certo punto noi siamo degli esseri biologici e dobbiamo giocare entro i termini anche della nostra biologia. La nostra biologia non ci permette di essere soli ed egoisti, perché se siamo soli ed egoisti non avremo figli, non ci sarà interesse per gli altri, non ci sarà interesse per il futuro. C'è una cosa che forse la gente non capisce, che avere figli vuol dire interessarsi della scuola, interessarsi della società, interessarsi... Uno che non ha figli vive in egoismo, vive in un mondo, una piccola ristretto, giusto? Asfittico. Asfittico. E così vale per gli altri uomini e per i loro problemi. Cioè, noi siamo fatti per essere in relazione. Noi siamo fatti per vivere in società e interessarsi della società. Quando siamo molto giovani sembra una cosa sciocca, diciamo, vabbè, tanto io mi diverto, punto e basta. Ma poi gli anni passano. Mi viene in mente, non è bene che l'uomo sia solo. Cioè, queste considerazioni etiche hanno anche, per chi crede, le implicazioni religiose. Se noi per natura siamo rapporto, chi ci ha voluto così e perché? No, è giusto questo. Cioè, una cosa, io non voglio qui fare propaganda religiosa, ma quando mi chiedono come si fa ad aumentare l'empatia, in realtà, se lei legge la Bibbia o il Vangelo, nel Levitico si parla già del ama il prossimo tuo come te stesso. Non è solo nel Vangelo, prima, c'è già della Bibbia. E questo è un fattore fondamentale. Come fai ad aumentare l'empatia? L'empatia nel considerare che l'altra persona è come te. Quindi, creata quindi figlio, diremmo, direbbe un amico vescovo o sacerdote, probabilmente. Ma le chiedo, lei si è mai posto la domanda su Dio? E si può separare la vita dell'uomo da quella dello scienziato? Oppure le domande in qualche modo si intersecano e toccano tutti gli aspetti del vivere? No, vede, questa è una domanda a cui non posso rispondere, perché se lei mi chiede, come Giacomo Rizzolati è scienziato, qualsiasi domanda, qualsiasi risposta le do è sbagliata, perché se le dico che Dio non esiste non ho alcuna prova, se le dico che Dio esiste non ho nessuna prova. Uno scienziato non ha diritto di parlare di cose che sono al di fuori del suo ambito. Ma infatti io non le ho chiesto una risposta, non oserei mai, ed è giustissimo quello che lei dice, ma la domanda uno se la pone, questo mi interessa. Sì, ma la risposta non la può dare, perché sarebbe arroganza, sarebbe influenzare gli altri in base a qualcosa, perché non è giusto. In genere non penso che una persona, quello che dà fastidio, sono certi premi Nobel che mi bisogna parlare di tutto, dal clima, no, tu devi parlare di quello che sai, tutto il resto non è compito tuo. Non volevo forzare il discorso su Dio, ma perché credo che le domande grandi della vita valgano per tutti, che uno faccia… Sì, e le risposte di ognuno hanno la stessa valenza, non è che la mia vale più della sua o della persona che passa qui… Però se io studio filosofia o il cervello dell'uomo, è più facile che mi sorgano certe domande piuttosto che se faccio altri tipi di lavoro. No, in realtà quello che ci hanno insegnato, almeno a me hanno insegnato, è che lo scienziato deve porsi delle domande piccole, cioè deve chiedersi come funziona il sistema motorio e allora guardando quello puoi scoprire qualcosa di grande. Se io dicessi studio il cervello dell'uomo, voglio vedere se c'è l'anima, beh dovrei andare in manicomio. Questa iubri si avrebbero detto gli antichi, è tracotanza. Tracotanza, arroganza e tracotanza. Mi veniva in mente un'altra cosa, anche qui sto allargando un po' la ragione. La parola empatia in greco è uguale alla parola compassione in latino e compassione è un carattere della divinità. Ecco, qui c'è un bisogno di distinguere, cioè l'empatia come lo usiamo noi scienziati è la capacità di metterti nei panni degli altri, cioè io capisco che tu hai male o che tu stai per vomitare o che, insomma, quello che vuole, che hai dolore. Non è detto come mi comparterò, perché io mi posso comportare in maniera diversa. Facciamo un caso così un po' triste. Uno ha una mamma che ha l'alzheimer e sta con lei a casa. Tutto sommato per quella donna è meglio vivere con dei parenti, perché in quei pochi momenti di chiarezza è bello avere qualcuno vicino, ma a te fa molto male e finisci che la metti in una casa di riposo. Beh, tu avevi empatia per lei senza dubbio, il tuo comportamento è stato un po' egoistico se vogliamo, ma è anche comprensibile, perché non puoi vivere tutta la vita vedendo il soffrire tua mamma. Quindi l'empatia è il momento in cui capisci come puoi agire, ci dipende da molti fattori. E' lì che si salva la libertà. Beh, in certo senso, sì, sei libero di fare. Nessuno ti obbliga a fare una cosa o l'altra. Cioè noi siamo fatti, mi dica se sbaglio, se esagero, noi siamo fatti per provare empatia, ma poi il fatto di essere generosi, attenti all'altro, oppure egoisti, dipende da una nostra libertà. Questa è la nostra posizione. Ecco, la Chiesa e anche il Papa talvolta interpreta empatia come volersi bene. Invece dal punto di vista scientifico noi abbiamo un meccanismo per capire cosa uno fa. Poi la società, per cui lo dicevo che l'insegnamento religioso, eccetera, può aiutare poi a comportarsi bene. Per capire invece noi abbiamo bisogno dei nostri meccanismi biologici. Sì, anche per allenare ed educare all'empatia, no? Questo naturalmente. Io devo chiederglielo professore, costa dire le proprie idee? Cioè metterle in comune, renderle pubbliche? Beh no, perché noi scienziati, anzi, abbiamo l'obbligo quasi di metterlo. Lo sa che nel Medioevo dicevano che il professore universitario non deve avere uno stipendio perché è suo obbligo raccontare agli altri quello che conosce e che sa. Per cui inventavano il trucco che gli davano un'abbazia e così verso. Sì, però renderle note può provocare reazioni, consorterie, chiusure. Forse certi, guardi quello che facciamo noi non sono cose monetizzabili. So che i professori di biochimica eccetera che scoprono delle molecole o qualcosa lo nascondono, addirittura nei lavori possono falsificare qualche dato perché non possa essere replicato. Ma per fortuna nel mio campo tutto quello che si scrive è vero. E come responsabilità, lei quale sente su di sé per il lavoro che fa? Per quello che scopre e che dice? Responsabilità verso chi? Il mondo. Verso il mondo. No, l'unica cosa che mi è sempre stato detto è che non abbiamo il diritto di pubblicare cose di cui non siamo sicuri. Perché un lavoro sbagliato veramente causa danno notevole sia da un punto di vista sociale, sia perché poi qualcuno deve... pensi a quel delinquente che ha detto che i vaccini causano l'autismo. È un lavoro falso eppure ancora c'è gente che ci crede e non bastano decine di lavori che dicono non è vero e la gente talvolta gli piace credere le cose false. Per paura e ignoranza. Sì, per paura. Per paura. Devo chiederle anche questo, è una vexata questo in realtà. Lei è rimasto in Italia, che è un gran paese, ma per quanto riguarda la ricerca scientifica, l'università è un paese distratto, oserei dire anche rozzo. Perché ha scelto di rimanere qui? Dunque, io ho scelto di rimanere qui, devo dire, per ragioni legate ai parenti. Cioè la migliore offerta che ho avuto è stato quando avevo circa quasi 60 anni, era una posizione in California, a me piace molto la California. Lei c'è stato poi in America? Sì, c'è stato. Era un posto molto bello a UCLA, con uno stipendio più che triplo del mio. Però qui avevo già i nipotini, erano appena nati. Vabbè che uno ricco viaggia facilmente. Però tuttavia, insomma, è diverso vivere in California. Io in California mi trovavo bene, però la nostalgia dei parenti, soprattutto dei nipoti, devo dire, i miei figli erano già abbastanza grandi. Lei è un uomo che ha imparato a esercitare l'empatia e non può farne a meno? Se vuole. Lei come spiega il suo lavoro ai suoi nipotini? Il nonno fa questo lavoro, come glielo spiega? Beh, è difficile per i figli e i nipoti. La racconta di un mio collega, il professor Berlucchi, il cui figlio diceva, mio papà fa il ricercatore, e il maestro congono a dire, ma cosa fa esattamente? A un certo punto si è stato fatto e ha detto, fa il bidello. A questo punto tutti avevano capito che cosa faceva. Io credo che questo dubbio l'abbiano molti. Certo che sì. Senta, la sua biografia personale è una sintesi fruttifera di popoli e culture. Lei è nata a Kiev, è ucraino, però la sua famiglia ha radici italiane, lei stesso poi è andato fin da piccolo a vivere in Friuli e poi è stato adottato dall'Emilia. Quanto hanno peso, ricordiamo che l'Ucraina quando è nata lei stava sotto l'Unione Sovietica. Che peso hanno avuto e hanno ancora eventualmente le ideologie nella ricerca scientifica? In questo momento molto meno. Era terribile quando io ho incominciato a insegnare, nel 75, 73, perché la gente veniva e diceva, tu devi insegnare la fisiologia dal punto di vista marxista. Ma cosa vuol dire? Oppure c'erano quelli di comunione e liberazione, dicevano, ma la tua fisiologia che in esso ha con una religione? Non lo so. Adesso direi che queste domande non te lo fa nessuno. Siamo molto più liberi. C'è proprio l'idea, io credo che si è passata l'idea che c'è un incrocio tra biologia e cultura. Quindi non può dominare la cultura come volevo negli anni 70, dovevi tutto insegnare in funzione di biologia e non è tutto positivismo e biologia perché la cultura conta molto. Forse in altri paesi del mondo questo peso ancora c'è, no? Guardi, quando parliamo delle ragioni stiamo parlando del mondo occidentale, perché cosa succede in Iran è meglio non saperlo. O in Cina forse, no? Cioè credo che lì ancora i… In Cina c'è uno sviluppo scientifico spaventoso. Ma libero o sono organici in qualche modo? Beh nel mio campo è libero. Libero? È libero. Voi avete rapporti? Sì, sì. Io sono stato recentemente, non grandissimo, sono stato a Shanghai tempo fa e sono rimasto impressionato sia dei mezzi che della quantità di gente che ci lavora. Le dico di più, il nostro neurochirurgo con cui lavoriamo adesso è stato invitato a Cina per impiantare quelle tecniche che usano a Milano in Cina e si prevede che sarà un ospedale dieci volte più grande del Niguarda. Quindi in breve tempo avremo una casistica incredibile. Ma se l'Italia riesce a regalare sapienza e cultura al mondo, cosa manca perché ci sia questo slancio e questa volontà, soprattutto per i più giovani, di non dover scappare a studiare fuori? Ma guardi, io se dovessi esaminare le differenze tra me e i miei colleghi giovani è che si sono molto burocratizzati. Cioè noi non accettavamo l'idea che un burocratice dice questo non si può comprare, devi fare dodici domande, cerca tre preventivi. Cioè la paura dell'imbroglio finisce che ti blocca tutto. L'Italia ha la fissazione che siamo tutti degli imbroglioni che cerchiamo di rubare e quindi bisogna controllare. Ci sono stati e ci sono molti imbroglioni, il problema è che continuano a esserci ancora, ma anche quelli che non lo sono. Sì ma non te la cavi perché, capisci, o ti figli delle persone e magari punisci quando hanno sbagliato. Ma se crei mille ostacoli, poi li superi. Quindi quello che blocca la nostra ricerca in Italia, il sistema universitario, è la burocrazia? È la burocrazia, ma non è solo la ricerca. Noi siamo in rapporto con un gruppo irlandese che prevede i disastri. Sono bravissimi. E loro hanno alcuni gruppi italiani e dicono che sono i più bravi al mondo, però lavorando con le leggi loro, non con le leggi nostre. Non è mai stato consultato da qualche uomo di governo, partito di governo? No. Sa perché glielo chiedo? Perché immagino che grandi manager e quindi anche grandi politici dovrebbero essere attratti da questi studi sull'empatia, no? Perché potrebbero essere utilmente impiegati nel loro lavoro. Io sono stato solo contattato da delle banche che volevano migliorare il rendimento bancario, migliorando l'empatia, perché sembra che la vita in certi uffici sia tremenda, perché c'è il boss. Ecco, quello da eliminare. Ma no, politici no. Ho conosciuto alcuni politici, ho conosciuto Amato ad esempio. Quindi questa separazione c'è ancora, insomma, tra ambiti che non sono compatibili. Ma in Italia, guardi, parlavo con Silvio Garattini, proprio pochi giorni fa, e lui diceva mentre negli Stati Uniti ci sono i consiglieri scientifici del Presidente, a noi non c'è niente di simile. Questo chiedevo. E qualche anno fa, quando mi preoccupavo per la sperimentazione animale, sono andato a Roma a parlare con quelli della Repubblica. Gli ho detto qual è il vostro ufficio scientifico? Ma hanno detto non ce l'abbiamo, non c'è. Sì, quella sua sperimentazione animale è una battaglia che l'ha vista colpita da parecchi strali, giusto? No, devo dire la verità che io personalmente non ho avuto molte difficoltà. Sono le leggi generali che mi hanno preoccupato. C'è stato un periodo in cui abbiamo detto che in attesa di una normativa europea non si poteva fare esperimenti sulle scimmie. E allora abbiamo avuto un'audizione in Senato e devo dire la verità erano circa gli anni 90. Tutti, dalla Lega alla loro APC, hanno capito che era una sciocchezza. Personalmente non ho avuto mal, sì. Cioè è necessario sperimentare sugli animali? Beh sì, è il metodo più diretto. Poi la gente è convinta che sono cose dolorose. Quello che noi facciamo in neurochirurgia è esattamente quello che facciamo sulla scimmia. Se lei vede i malati non soffrono assolutamente, hanno gli elettroni impiantati nella testa. Bisogna scegliere o sperimentare sugli animali o sull'uomo? No. Noi continuiamo a passare da uno all'altro. Cioè sono due cose. Poi le scimmie sono usate pochissimo, si usano di solito topiche. Possiamo farlo dire perché? Non sono animali molto… non abbiamo molta empatia per i topiche. Ma non abbiamo un DNA molto simile? Sì, ma vede il DNA è ovvio che sia molto simile perché tutti abbiamo una faccia, abbiamo le zampe, abbiamo il sistema respiratorio. Cioè gran parte di quel DNA non va per il cervello, va per creare tutta quella parte che abbiamo in comune con qualsiasi mammifero. Con la scimmia poi siamo molto simili, ma il cervello è diverso. Soltanto gli uomini ce l'hanno così in potenza? Beh, l'uomo ha un cervello unico. Nessun animale sa scrivere alla Divina Comedia. Questa è una bella domanda, no? Perché? Perché se vuole le rispondo l'evoluzione, se vuole le rispondo… Siamo sempre lì. Perché a un certo punto abbiamo avuto… Siamo sempre lì. Qual è il campo di ricerca in cui lei vorrebbe buttarsi ex novo se avesse 20 anni di meno? Guardi, se fosse possibile la psichiatria, perché la quantità di persone che soffre e molti di quei fatti che noi raccontiamo, il femminicidio, quello che ha stuprato, quello che ha ucciso, in realtà si tratta di patologie psichiatriche. Quello non è cattivo, quello è matto. Una distinzione tra bad e mad è fondamentale. Cento anni fa si diceva che se uno fa queste cose è cattivo. Così come quelle persone che ammazzano i figli e se stesso, sono tutte forme. E sulla psichiatria siamo abbastanza indietro. Sì, è un settore ancora che si tende a oscurare quasi con vergogna. Mi domando se non ci sia un aumento di solitudine e quindi, genericamente, di follia in questo nostro tempo. Quello della solitudine spiegherebbe quei omicidi di marito e moglie che a 70 anni si uccidono entrambi, o lui uccide lei, perché quello di lei è proprio l'esempio che dice lei. In altri casi, insomma, la malattia psichiatra colpisce molto spesso i giovani. Allora, io le auguro di vincere il Nobel, un premio su cui ho moltissime riserve, ma che sarebbe fantastico, perché arriverebbero un po' di soldi interessanti e utili da spendere bene in questo paese. Io la ringrazio molto, ma devo dire la verità che ci sono tanti altri premi, soddisfazioni. Forse gli scienziati lo vivono in maniera meno drammatica. Dal principe dell'Asturie all'Erlis, insomma, ne ha collezionati un po', ha una stanza di trofei? No, e solo apparentemente banale. No, nel mio salotto ce ne sono molti, altri sono qua. Mia moglie diceva perché non facciamo un palchetto con i premi, ma per ora non l'abbiamo fatto. Come si riesce a rimanere umili? Beh, uno è conscio che insomma, uno non è Galileo, Galilei o Newton, dai. Se uno si guarda dentro. In una strada, in una progressione, lei è abbastanza vicino, più di molta altra gente. Come si fa a rimanere modesti, virtù rara e dimenticata? Come le dicevo, io penso che ognuno di noi scienziati si occupa di piccole cose e non dovrebbe pensare che risolve i problemi grandissimi. Se poi qualcuno dice che l'hai fatto, meglio. Grazie, grazie. È una risposta che mi aiuta tanto. Le chiedo una musica per chiudere questo nostro dialogo. E questa è la cosa più imbarazzante. Non aveva la musica? No, io amo la musica, però le direi come… le ha detto uno che l'ha intervistato, non mi ricordo chi è. Mi piace Mozart, ma è molto banale. Io ripeto la stessa cosa, se penso alla musica penso a Mozart. E se vogliamo fare… Guardi, la cosa più bella della musica per me è l'ultimo atto del Don Giovanni. È un capolavoro assoluto. Questo girare da momenti cominciamo molti drammatici, il comendatore. Ma non so di dirle un'aria, non mi viene in mente. Credo che essere banali così non ci metterebbe la firma. Grazie, grazie davvero. Al prossimo episodio Grazie a tutti.